Lei è una bellissima girl di 27 anni e dice che è fantastico, è fantastica la sessualità con il suo lui che di anni ne ha 60. Quindi lei 27 anni e lui 60, lui quindi ha 33 anni e più di lei e lei non lo cambierebbe con nessun giovane boi a questo mondo. Beh è un articolo di giornale cari amici, è un articolo di giornale con tanto di video che mi ha mandato l'amico Massimo Baldo, Max Kuhn. Massimo Baldo e questo articolo io ci tengo a pubblicizzarlo come si deve perché io non ho 60 anni come il signore di cui si parla nell'articolo e di cui si parla nel video. Io ne ho 76, 76 e le stesse cose che la bella gherla dice del suo lui sessantenne, però le potrebbe dire anche di un suo lui che avesse 76 anni come me. Sapete perché cari amici? Perché tutto rientra, caro Massimo Baldo, tutto rientra nella mia teoria che è spiegata qua e poi in circa 8.000 video che stanno su questa mia web tv on demand. Adesso vi spiego perché io mi sono venuto a trovare tra l'incudine e il martello, vedrete perché. Perché il patriarcato non è una cosa bella, perché in patriarcato c'è la proprietà privata, non è una cosa bella il patriarcato. Di bello però c'è che nell'imprinting familiare, noi tutti abbiamo subito un imprinting della nostra famiglia, con mamma e papà o i parenti, un imprinting abbiamo subito e capita che una bambinetta si innamori della figura paterna e poi non riesca a superarlo questo imprinting e quindi per tutta la vita la bambinetta che poi cresce continua ad amare uomini anziani, che è poi magari il caso di questa bella girl di 27 anni che ha un compagno di 60 anni che non lo cambierebbe per nessun boy di questo mondo. e capita pure anche il contrario che è un ragazzo, un ragazzo, un ragazzo imprintato in maniera di amare la mamma e poi magari amerà le donne più anziane di lui per tutta la vita. Grosso modo, mi sono espresso rapidamente, questa è una cosa bella, perché va a favore delle persone anziane come me, perché una persona anziana come me può trovare una bella girl giovane, una bella girl giovane che è ancora affascinata dalla figura paterna e cerca una figura paterna come la mia e questa è una cosa bella, però la cosa non bella, ma non si può avere una bella gallina in questo mondo e che non siamo più immatricato, non siamo più immatricato e per cui c'è la scoperta della proprietà privata, la scoperta della funzione dallo sperma e anche la questione che uno può diventare padre e se diventi padre c'hai delle responsabilità, specialmente se diventi padre alla mia età, 76 anni quindi caro Max Kuhn, io sono tanto lieto per la notizia che tu mi hai mandato tant'è vero che ci faccio questo video, un video esplicativo, chiarificatore e io mi ci vedo sai, in quella coppia lì, lei 27 anni e lui di 60 anni però è bello tutto ciò, perché di certo lei, la 27enne, è ancora affascinata dalla figura paterna e magari lui, 60enne, è ancora affascinato dalla figlia, diciamo così il fascino che c'è tra padre e figlia che però poi al di fuori della famiglia si può realizzare a letto, nell'alcova però c'è il fatto che alla mia età, non dico la sua età di 60enne alla mia età di 76enne, uno deve controllare lo sperma perché se io metto incinta una gherla giovane e per me sono sorciverdi poi nascituro che fa? Viene a conoscere il suo babbo alla casa di riposo? alla casa di riposo? mi viene, mi viene, mi viene va bene Max, grazie Max bella la notizia e la metto come l'ignorio assoluto di questo video a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni a tutti